Sanitari, alimentazione sana ed equilibrata, i foraggi accuratamente selezionati e privi di OGM sono coltivati nel segno della tradizione. Tutta la filiera è minuziosamente controllata dai responsabili qualità interni i quali accompagnano il prodotto fino ai banchi di vendita. Il caseificio Marrandino si trova a Castelvolturno in via Pagliuca numero 2. Telefono 0823 76 1164. Il caseificio Marrandino è partner ufficiale della società Calcio Napoli e della Juve Caserta Basche. Per non consumare nemmeno un secondo E sentire che anch'io sono parte del mondo E con questa canzone vi... E solo per i number one Si chiama Anya Show Anya Show! Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti ad un'altra fantastica puntata di Anya Show! Stasera avremo tantissimi ospiti, tanti argomenti di cui parlarne E chiamo Mattia, appunto il nostro amico giornalista Eccomi qua, eccomi qua Ciao Mattia, buonasera Siamo la nona se non mi sbaglio Nona puntata, mamma mia Come andiamo veloci Comunque tu sei sempre più elegantissimo Ti ringrazio ma mi difendo Cerco di essere anche competitivo con voci Ce la metto tutto ma non so se ci viene Certo, certo Allora, noi siamo pronti Vogliamo iniziare Non so che cosa dobbiamo fare stasera Dobbiamo ricordare al pubblico Prima di tutto di non cambiare canale Buonasera Che è successo? Chi è questo? Ogni settimana assieme alla stessa cosa Che cosa che hai? Scusi, buonasera 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 No, ci dica lei Chi le ha dato il permesso di entrare Ma soprattutto perché è qui Ma chi se ne frega Ma tu chi sei, Toto? E' bravo E' bravo Zulio Hai visto? Hai visto? Hai visto? Sono bravo Chi è rispetto a questo Questo Pippo Quattrocchio Vabbè Allora Visto che siamo dopo le elezioni Ci vuoi dire a chi hai votato? No Mi faccio il piacere Io non ho né Grilli per la testa Né Monti E Berlusca per le tasche Passa con questi mari E Monti Casini E tutto il resto di quel partito E chi hai votato? Scusami Chi hai votato? Io ho votato per il partito P-R P-P-R E che significa? Che partito è? Non sapete che partito è? E' il partito che rubano Ai poveri per dare ricco Bravo 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 Buonasera Ania Eccola qua la nostra Ania Benvenuti alla nona puntata di Anascio Ania Stasera abbiamo Abbiamo un altro personaggio Un po' che è qui Ma comunque E ma chi è? Ania ti presento il grande Totò E questo sarebbe il grande Totò Così dice? Mi scusi ma lei Chi è? Ania? Sì E chi se ne frega Io me ne infischio Ma chi se ne scusse? Scusami Questa parola non era detta dal grande film Via col vento? E non fa niente Fa tutto bro Ma a proposito Hai portato gli spaghetti? Con tutta sta miseria Io ti portavo gli spaghetti Eh già Oggi siamo ritornati alla miseria e nobiltà Come ricchi e poveri Eh già Ma anche solo Romini e Albano Eh ma dunque Io voglio Io non ci capisco niente In informazione Eh in informazione Per andare dove devo andare? Dove vado? Allora Questa è una È una semplice informazione Sì Allora tu Se vuoi andare fuori Ti accompagno io Col fischio senza? Ma col fischio senza Basta che te ne vado 80 anni 80 anni 80 anni 80 anni Ci siamo tolti Ci siamo tolti Un altro peso dallo stomaco Anche stasera Io credo che stasera era finita sta storia Era finita Ma sì perché abbiamo messo La polizia, i carabinieri Finanza La fura Ma non ci dobbiamo riuscire Non ci riusciamo Ogni mercoledì Non ci riusciamo Entra un personaggio strano Non ci riusciamo Una volta viene il parcheggiatore Una volta viene il cinese Una volta viene la cameriere E mo' anche questo fin tototò Vabbè Comunque E benvenuti alla nona puntata di Ania Show